22 Aprile 2024, Messaggio di Nostra Signora Regina della Pace, Algarve, Portogallo. Cari figli, datemi le vostre mani e io vi condurrò per il cammino della santità. Non perdete la vostra speranza. Dio ha il controllo di tutto. Confidate in Lui che vede ciò che è nascosto e vi conosce per nome. Vivete nel tempo peggiore del tempo del diluvio ed è giunto il momento del vostro ritorno. Allontanatevi dal mondo perché appartenete al Signore e solamente Lui dovete seguire e servire. Voi siete nel mio cuore immacolato e nulla dovete temere. Ascoltatemi. Voi avete libertà, ma il meglio è fare la volontà di Dio. State attenti a non essere ingannati. Vivete nel tempo della confusione spirituale e solamente la verità passerà la vostra arma di difesa contro i nemici di Dio. Non gettatevi alle benedizioni ricevute nei vostri continui incontri con Mio Figlio Gesù. Non rifiutate le benedizioni ricevute nei sacramenti, veri canali dell'azione salvifica di Mio Figlio Gesù nelle vostre vite. Coraggio. Il domani sarà migliore per i giusti. Avanti per il cammino che vi ho indicato. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.